Ciao a tutte ragazze, oggi sono qui per parlarvi di una collaborazione veramente molto particolare e diversa dal solito. Questo è il pacco dove mi è arrivata tutta la marcia e vi faccio vedere qua già nel nastro viene indicata appunto la ditta che ha fornito questa sorta di collaborazione pubblicità. Ciao vi spiego subito, io mi sono praticamente candidata ad una campagna con Biscas e c'erano 1700 kit che appunto potevano essere spediti e io sono stata appunto ritenuta idonea per questa campagna pubblicitaria. Quindi adesso vi mostro subito il contenuto. All'interno ho subito trovato questo che è una sorta di librettino illustrativo dove spiega appunto questo, cioè dice benvenuto nella campagna Biscas. E qua sono elencati i prodotti che ho ricevuto che adesso comunque vi mostro. All'interno della stagola c'è tutto questo. Perciò inizialmente c'erano tutte queste qui. Questi qui sono 15 campioncini da 50 grammi di Biscas pranzetti pollo. In realtà qua sono 14 perché una l'ho già data appunto alla mia gatta e devo dire che le è piaciuto veramente tanto. Lei appunto mi sono accorta che comunque 50 grammi non le bastavano, però avendo già mangiato ho preferito dargliene 81 e questa le è piaciuta veramente tanto. Dopodiché c'era questo all'interno del pacco. Si tratta anche in questo caso di cibo umido e una confezione da 6 per 50 grammi di Biscas pranzetti. Dopodiché c'era questo. Si tratta di cibo secco ed una confezione da 350 grammi di Biscas croccantini pollo. Questi qua appena finirò di registrare il video li darò appunto alla mia gatta e vedremo appunto se le piaceranno. Poi c'era questo. Questo si tratta invece di snack. È una confezione piccolina da 60 grammi di Biscas tentation pollo. Mi piace moltissimo l'idea del fatto che ci sia la forma del gattino. Infatti vi faccio vedere la confezione così. Si può aprire. Questi sono i croccantini che poi gli darò. E volendo si può comunque anche riutilizzare per magari non so se dovete portare il gatto con voi. Potete mettere dei croccantini qua dentro e averli sempre portati di mano per il vostro gatto. Dopodiché mi sono stati forniti questi che sono dei buoni sconto. Sono dei buoni sconto che sono validi fino al tutto il mese di luglio. Con questi appunto si può acquistare Biscas pranzetti. Ed è un importo di 15 euro perché ci sono 15 buoni appunto tutti da 1 euro. Questi qua praticamente spiegano un po' l'idea della Biscas appunto. Spiega i tre prodotti che ci sono. Sono per i gattini piccolini, sovronanno e sovra i 7 anni. Spiega i tre prodotti che ci sono stati forniti.